Musica Foggia in lutto dopo la tragedia di ieri sera. Una ragazza di 25 anni, Camilla Di Pumpo, è morta in un incidente stradale avvenuto tra via Matteotti e via Urbano, nel centro della città. La ragazza era alla guida di una Fiat Panda quando, per cause ancora da accertare, si è scontrata frontalmente con un'altra automobile. Nonostante il disperato tentativo del personale del 118, la 25enne è deceduta poco dopo in ospedale. La ragazza era molto conosciuta in città e faceva parte dell'Aiga, l'associazione italiana Giovani Avvocati della sezione di Foggia. Con il cuore straziato, si legge nella bacheca Facebook dell'Aiga Foggia, Questa mattina piangiamo la tragica e prematura scomparsa di Camilla Di Pumpo, nostra socia e amica di 25 anni. Giovane e promettente avvocato, amica sincera e leale, amorevole e compagna del nostro presidente Mario Aiezza, lascia un vuoto incolmabile in tutte le persone che hanno avuto la fortuna di incontrarla. Mancheranno, continua ancora a raccontare l'Aiga Foggia, i suoi meravigliosi sorrisi nelle aule del tribunale. Mancherà la sua dolcezza, la sua bontà d'animo, la sua spontaneità, il suo entusiasmo e la sua contagiosa voglia di vivere. In redazione continuano ad arrivare segnalazioni di cittadini preoccupati sull'andamento dei lavori che riguardano la ricostruzione dei marciapiedi deformati dalle radici degli alberi. Purtroppo, in questa tipologia di lavori, l'abbattimento degli alberi è inevitabile e alcuni cantieri sono già a buon punto e nuovi bordi del marciapiede sono già stati fissati. Le segnalazioni pervenute descrivono esattamente quello che noi abbiamo visto. Ben radicato nel terreno, la parte bassa del tronco, quella più vicina alle radici di questi grandi alberi potati appena qualche mese fa, è ben visibile al fianco del cordolo perimetrale che appare già sistemato. Ed è proprio questo attuale Stato che desta le preoccupazioni dei cittadini più sensibili. Le cose all'italiano. Prima mettono il cordolo del marciapiede e poi devono togliere le radici. Perché non togliere prima gli alberi e poi mettere il cordolo e fare il marciapiede? Beh, la domanda sorge spontanea, ma non possiamo pensare che il piano lavoro della ditta appaltatrice non abbia previsto l'asportazione della base del tronco con tutte le sue radici e che sia normale che il cordolo sia stato saldamente sistemato prima di questa operazione. A lavori consegnati colori nuovi dell'asfalto del cordolo saranno sicuramente un bel vedere. Sarà proprio così? Non è che l'asportazione delle radici di questi giganti verdi, plantumati probabilmente tra il 1920 e il 1930, e per questo ben radicati nel terreno interessato, strapperanno i cordoli sistemati, obbligando la ditta appaltatrice a rifare il lavoro? Non è che l'asfalto colato, dopo qualche settimana a chiusura del cantiere, si stabilizzerà in avvallamenti e depressioni? No, perché così è sul viale degli avviatori, sul Corso Roma, sul viale Ofanto e su tante altre strade della città che sono state interessate da lavori di adeguamento per l'energia elettrica, per il gas, la telefonia o l'acquedotto. La colpa è delle ditte appaltatrici? Vincitrici di gare, condizionate da un capitolato probabilmente stretto, ma certamente definito, con il ripristino, a fine lavori, del manto stradale. È proprio questo ripristino che è quasi sempre ben lontano dal concetto di arregola d'arte. La maggior parte dei cantieri chiusi in città hanno lasciato ben visibile la traccia del loro intervento. Vere e proprie cicatrici, per lavori finiti in tutta fretta con il solo riempimento degli scavi con pietrisco e colata di asfalto. Tempo a una settimana lo scavo diventa una depressione della superficie dove l'acqua piovana ristagna e crea buche, fossi, voragini. È così la nostra città. Sembrerebbe quasi che la figura tecnica chiamata a ufficializzare la consegna di un lavoro non consideri la possibile variazione di un lavoro terminato con la tecnica del prima facciamo meglio è. Per quanti lavori si sono succeduti sulle strade della nostra città avremmo dovuto avere percorsi comodi e agevoli. Certe volte è anche capitato di vedere una strada da poco asfaltata interessata a lavori di scavo. È una questione di programmazione degli interventi allora. Forse obbligare le ditte appaltatrici alla ricostruzione integrale del manto stradale a fine lavoro potrebbe essere una soluzione, sicuramente la più costosa ma proprio per questo più tipologie di lavori potrebbero essere organizzati nello stesso ed unico cantiere e la spesa di rifacimento potrebbe essere divisa tra i lavori del gas, dell'energia elettrica, della telefonia o dell'acquedotto. Noi l'abbiamo detto e adesso torniamo ai nostri marciapiedi e speriamo che il tempo possa far registrare l'inutilità delle preoccupazioni dei cittadini che con le loro segnalazioni dimostrano amore per la loro e la nostra città. È stato trasferito per incompatibilità con ogni funzione giudiziaria nel circondario di Foggia Francesco Murgo, il giudice del Tribunale che opera nella sezione fallimentare. Una storia che fece clamore in città anche dopo che nell'estate del 2020 in molti muri della città furono tappezzati da manifesti che denunciavano presunti rapporti sessuali tra un giudice e alcune curatrici nella sezione fallimentare del Tribunale Dauno. Ora è arrivata la decisione del Consiglio Superiore della Magistratura che ha stabilito che il giudice non può più lavorare nel circondario a Foggiano e per questo deve essere trasferito. Tutto inizio, lo ricordiamo, con la denuncia nell'agosto del 2020 di una persona che segnalava presunti abusi di ufficio e favoritismi operanti dal giudice. Da quelle denunce la Procura di Lecce ha avviato un'indagine accertando, anche con intercettazioni, rapporti sentimentali tra il giudice e alcune curatrici da lui stesso nominate. Per il CSM l'atteggiamento del giudice costituisce conferma della necessità di eliminare la situazione che si è creata in quanto non solo nell'ufficio giudiziario ma nella stessa comunità in cui il magistrato esercita le funzioni si è determinato un clima di inevitabile sospetto che le relazioni sentimentali del magistrato non siano avvenute a caso ma trovino giustificazione o comunque occasione nell'esercizio di funzione che per la loro natura lo pongono nella condizione di chi può dare incarichi che, all'esterno, sono percepiti come il risultato di non commendevoli scampi. Gli inquirenti parlano anche di rapporti assai confidenziali intrattenuti dal giudice tra il 2018 e il 2019 con tre professioniste che svolgevano incarichi come ausiliari per lo più curatrici fallimentari in alcune procedure concorsuali di cui egli era assegnatario sfociati in vere e proprie relazioni sessuali o parasentimentali peraltro di fatto ammesse dallo stesso interessato nella sua nota difensiva con alcuni rapporti intimi consumati anche presso la stanza del magistrato nel tribunale di Foggia in orari d'ufficio. Una chiara e spregiudicata distorsione delle funzioni pubbliche piegate a vantaggio i soggetti privati anche mediante la predisposizione di falsi atti. Indagati che hanno dimostrato la facilità nella predisposizione di questi atti falsi via via idonea per seguire gli interessi privati avuti di mira frustando quelli pubblici. Sono alcuni dei passi dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Foggia che ha disposto le misure cautelari per otto persone nell'ambito di alcune indagini all'interno del Comune di Peschici. Coinvolti pubblici amministratori incaricati di pubblico servizio del Comune Garganico ma anche imprenditori e professionisti. Agli arresti domiciliari, lo ricordiamo, sono finiti i dirigenti comunali Giuseppe Mastromatteo e Massimiliano D'Adduzio quest'ultimo ex dirigente dell'ufficio tecnico in pensione da alcuni mesi. Per i restanti se indagati è stata applicata la misura interdittiva per la durata di 12 mesi dei pubblici uffici o pubblici servizi per il dirigente comunale Luigi Forte per l'istruttore tecnico comunale Domenico Martino dalla possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione per gli imprenditori Leonardo Lagrande e Domenico Mastromatteo, fratello del dirigente. Misura interdittiva agli avvocati e coniugi Raffaele Sciscio e Maria Pia De Nittis. All'attenzione dei magistrati il rilascio di concessioni dei maniali marittime attraverso la formazione di atti ideologicamente falsi, l'alterazione del regolare funzionamento della procedura di affidamento ed esecuzione dei lavori di riqualificazione urbana del valore di circa 100.000 euro attraverso sia la produzione di documentazione falsa in sede di gara sia l'omissione da parte del RUP delle dovute verifiche in sede di affidamento di gara in corso d'opera circa l'effettiva esecuzione delle opere appaltate. Inoltre all'attenzione degli inquirenti anche il conferimento di incariche professionali per circa 130.000 euro conferimenti effettuati sulla base di false attestazioni e dichiarazioni in conflitto con gli interessi dell'ente locale. Anche quest'anno in occasione della giornata della memoria il comune di Sansevero ha ricordato lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici nei campi nazisti. Oltre alle iniziative previste alla biblioteca comunale Alessandro Minuziano dove è stato inaugurato uno spazio dedicato alla produzione bibliografica sull'argomento l'amministrazione comunale assessorato alla cultura ha voluto ricordare alcuni dei cittadini sanseveresi scomparsi nei campi di concentramento o per effetto della lunga prigionia con l'apposizione di pietre di inciampo le prime in provincia di Foggia collocate dinanzi l'ingresso principale di Palazzo Celestini. Con questa iniziativa dichiarano il sindaco Francesco Miglio e l'assessore alla cultura Celeste Diacovino si intende porre un elemento perenne di memoria nella nostra città dedicato alle vittime dell'ideologia nazifascista con la finalità di creare nella coscienza dei cittadini che quel passato non si ripeta e si conosca la triste sorte di alcuni cittadini militari internati durante la seconda guerra mondiale. Al fine di diffondere la conoscenza dell'iniziativa verrà distribuita in tutte le scuole di ogni ordine e grado una brochure in cui oltre ad essere riportata la descrizione di pietre di inciampo c'è una breve storia degli internati militari italiani e la biografia dei tre militari sanseveresi a cui sono state dedicate le tre pietre di inciampo. Si tratta di un piccolo blocco quadrato di pietra ricoperto di ottone lucente che ricorda il nome l'anno di nascita il giorno e il luogo di deportazione oltre alla data della morte del deportato nei campi di concentramento. In Europa ce ne sono oltre 70.000 collocate in oltre 2.000 città. In occasione della giornata della memoria sansevero ha onorato i suoi figli internati militari Michele Lacci e i fratelli Paolo e Vincenzo Villani. Anna Rita Pichieo docente della Catalano Moscati una squadra di calcio e basket che conferma l'orientamento sportivo di questa scuola. Sì orientamento sportivo uno dei sei orientamenti perché noi siamo una scuola orientativa che quindi propone diciamo questi percorsi sin dall'infanzia per cui i bambini che si iscrivono da noi che stanno con noi diciamo dai 3 ai 14 anni speriamo hanno l'opportunità di provare i nostri sei orientamenti chiaramente quando sono piccoli sotto forma di esperienza quindi ludica quando sono più grandi questi orientamenti poi si sostanziano si proprio concretizzano in veri e propri percorsi tra questi l'orientamento sportivo e alla scuola media noi cominciamo sicuramente con il progetto nuoto grazie alla collaborazione con la Pentotari con la piscina comunale con l'associazione che gestisce la piscina comunale di Foggia chiaramente a costo zero per le famiglie quindi un primo passaggio sul nuoto per poi adesso finalmente allargarci con gli sport di squadra quindi la squadra di basket la squadra di calcio e anche chiaramente la regina di tutte le discipline che è l'atletica leggera noi siamo anche fortunati perché abbiamo una serie di collaborazioni anche con dei professionisti del settore per cui i nostri colleghi dottori scienze motori istruttori federali Danilo Lamacchia Davide Colella Nicola Caputo e non vorrei dimenticare chiaramente i nostri colleghi di educazione fisica Sara Occhionero Michela Ricotta che tutti sono ovviamente dei dottori di scienze motorie ma anche istruttori federali delle singole discipline che ci danno una mano in particolare questi sport di squadra in questo momento per noi sono una fonte essenziale intanto di socializzazione perché in questo periodo sappiamo quanto la socializzazione sia stata messa da parte e anche l'occasione una grande occasione di inclusione perché sono degli sport che ci permettono proprio di includere quindi lo sport per tutti quindi siamo molto felici insomma di annunciare che ci saranno anche degli allenamenti di basket di calcio di atletica Danilo Lamacchia cosa vuol dire allenare questi ragazzi anche in un momento difficile per loro come il Covid Sì purtroppo veniamo da un brutto periodo i ragazzi hanno bisogno di muoversi di fare sport un complimenti alla scuola perché offre davvero tanti servizi quello dell'orientamento sportivo è fondamentale in questo periodo per loro perché i ragazzi hanno bisogno di fare soprattutto sport di squadra come ha detto la collega Narita Picheo l'inclusione è importante muoversi in armonia giocare divertirsi socializzare in questo periodo è molto importante Davide Colella con questo progetto si ritrovano un po' anche le pratiche sportive legate ad atletica ma non solo è importante per i ragazzi Beh sì lo sport è importantissimo per i ragazzi sia che sia di squadra che sia individuale perché sicuramente è una valvola di sfogo e poi diciamo aiuta i ragazzi ad esprimersi a volte anche quando hanno delle problematiche familiari e di disagio io sono felicissimo di far parte di questo staff da pochissimi giorni però cercherò di dare il mio apporto per questo progetto anche perché sarà facile con questi collaboratori e i docenti della scuola e soprattutto la dirigente che è apertissima a questo tipo di esperienze Prima di sarsi tutto solo in vetta la classifica di serie D il Cerignola rischia di scivolare sulla classica buccia di banana nel recupero della penultima giornata del girone d'andata contro l'avversario che poche preoccupazioni avrebbe dovuto dare alla formazione giallo-blu arrivata a questa terza gara in appena otto giorni con due vittorie di fila sette gol realizzati e zero subiti in 180 minuti lo zero però resta per tutto il primo tempo anche nei gol fatti dall'audace contro un San Giorgio che si preoccupa solo di difendere dopo le schermaglie iniziali rappresentate dalla conclusione alta di Maltese e dal tiro cross insidioso di De Siena il monologo giallo-blu sino al riposo contempla il gol annullato a longo per fuorigioco al quattordicesimo le proteste vivaci per questo atterramento di Loiodice sul quale il direttore di gara lascia proseguire un colpo di testa ancora di Loiodice sul quale si salva la difesa campana e un'altra girata di testa questa volta di Malcore a digiuno dopo la scorpacciata di gol contro Brindisi e Sorrento controllata dal portiere l'insistenza del Cerignola nel cercare il gol per rompere gli equilibri ed evitare che la gara si trasformi in una ragnatela senza scampo prosegue ad inizio ripresa la prima conclusione di Malcore dopo 14 minuti viene deviata in angolo e le difficoltà a sfondare suggeriscono a Michele pazienza di muovere le pedine dalla panchina con gli innesti di Ascic e Giacomarro il risultato però è diverso da quello atteso perché il San Giorgio prende inaspettatamente coraggio e prima impegna tricarico in una deviazione in angolo e dall'azione successiva trova l'insperato e inaspettato vantaggio con Scalzone la reazione dell'audace è immediata oltre che rabbiosa anche se Longo non trova la misura in mischia il pareggio però arriva quasi subito con la posizione di Ascic sulla quale si ritrova la deviazione vincente la voglia dell'audace di conquistare i tre punti sbatte sul muro campano in questa conclusione di Giacomarro e trova la reattività di Bellarosa sullo Iodice in giornate come queste la beffa è sempre dietro l'angolo ma non si concretizza due minuti dal novantesimo sul palonetto di Onesto superata la paura il Cerignola spende le ultime energie per cercare e trovare il gol che vale tre punti e primato solitario in classifica la firma è quella di Ascic riserva di lusso in una squadra che infila il quattordicesimo risultato utile consecutivo senza aver avuto paura di doversi sporcare le mani grazie a tutti